Ma il Duomo e poi un po' le vie del centro. Quindi il Cappella Bacci, Piero della Francesca? Sì esatto, quella è lì. Una Pasquetta a spasso per i musei aretini in cima. Ovviamente alle richieste dei turisti c'è la Cappella Bacci con la leggenda della vera croce di Piero della Francesca ma anche gli altri siti museali sono visitati dai tanti turisti che oggi sono in città. Da Firenze. Venite da Firenze, che scelta avete fatto rispetto ai musei da poter visitare? Adesso la Cappella Bacci, poi volevamo vedere Santa Maria delle Grazie e arrivare in piazza. Due i musei che solitamente in questo periodo i turisti trovavano chiusi, il Museo d'Arte Medioevale e Moderna e Casa Vasari. Grazie ad un accordo tra la Direzione Regionale Musei della Toscana, la loro valorizzazione e gestione è stata affidata alla Fondazione Arezzo in Tour. Entrambi comunque aperti solo fino alle 12.30. Bene l'afflusso anche per il Museo Archeologico Gaio Cilio Mecenate, scelto da aretini e turisti. Noi in questo periodo stiamo facendo i turisti per caso Arezzo. È vero, stiamo andando a vedere i vari monumenti. E mi piaceva portare loro qui perché io come un ex insegnante sono venuta spesso qui al museo. La cosa che li ha interessati di più. La caccia al tesoro. Il tesoro per questo gatto gaio che li portava nelle varie stanze gli spiegava quali erano le cose più importanti. Noi arriviamo da Napoli, quindi siamo venuti a trovare i nonni qui e chiaramente abbiamo lasciato le bambine a casa, ne abbiamo tre. Abbiamo deciso di fare un giro, insomma, culturale e vedere il museo. Visto che non avevamo la possibilità di girare con le bambine, stamattina abbiamo approfittato. Sì, io sono il nonno, sono a aretino. Quindi lei fa la guida oggi? Come da guida, sì, da Cicerone. Trentino. Trentino. Avete già deciso un giro tra i musei, quelli che sono aperti? Certo, è prenotato la signora là che si sta scappando, che museo che siamo andati a prenotare? Museo della Basilica di San Francesco e faremo la visita guidata alla città.